Ragazzi, finalmente Terrisland, questo è il mio mio che aspettavo, andiamo a fare il PG insieme Poi lo porterò stasera in live, alle 22, su Youtube Non me ne frega niente, schippa! Ma poi tap, perché c'è scritto ancora tap? Tappa! Le classi Warrior Purtroppo ho visto non solo è gender locked, ma è anche race lock Quindi se volessi fare il berserker, devo fare forza qua il criceto Lui abbiamo tank damage, healer, melee, ranged Non si sa, può fare tutto, può fare niente Qui ci sono forse delle specializzazioni, io credo che farò l'umano perché è super semplice eccetera, ma ok Io se volessi fare il berserker, niente, mi tocca fare il criceto La mage, che è solo femmina, tanto chi fa il mage è gay Qua abbiamo il paladin, che però vedete che qua c'è tipo rosso e blu, è come se avesse le specializzazioni Ah no, si può scegliere, ah perché si può scegliere il sesmos Quindi anche il mago si può scegliere Ok ragazzi, se qua sotto abbiamo rosso e blu, si può scegliere Perché certi sì, per certi no? Se volevo fare il prete maschio, non potevo Qua abbiamo lo Shadow Swordman, che sarebbe, vabbè, il classico assassino Che non mi dispiace, ma non vorrei che fosse grigio Se posso cambiare il colorito della pelle, volentieri Poi abbiamo la Tamer, Ranger, ecco Una delle classi che più mi interessava è solo femmina, dai, meno male La Phantom Necro Il bardo è maschio, certo Potere del Fro Abbiamo il bardo Vediamo se posso cambiare il colore di questo tizio Skin color Mannaggia Ah, niente Se voglio essere normale devo fare l'umano Con le doppie spade Che poi non sono moltissimi, ma Magari ci sa, se non inizio Faccio la classificazione al volo Oh, abbiamo le sopracciglia tagliate Figo Tamarro Non posso scegliere la barba Che vuol dire Tipo di occhi Mi faccio scegliere la pupilla, ma non si vede per niente Utile Possiamo scegliere il make-up Comunque l'estetica, insomma, del PG Tatuaggi in faccia, eccetera L'altezza Peso Possiamo farlo un grassi Siamo pronti a provare questo fantastico MMO Speriamo che sia fantastico, veramente Che brutto entrare in un MMO Sentire la voce in cinese Ragazzi, tab targeting Mi muovo con guasto Ma la visuale la giro con Sta musica Allora, anzitutto Background music Al minimo E non voglio sentire parlare lei Zitta Aspetta, forse posso modificare la camera? Ma no, mobile Posso muovermi mentre schillo L'animazione non sono affatto male E sta mangiando la pu... Madonna C'è il global cooldown Tipo wow Non la cazzine Schippa su Drago Allora, per ci sia il global cooldown Non mi piace per niente, ragazzi Sincero A meno che non si possa ridurre di MMO Carino Ci sono delle meccaniche però carine C'è un priest che ha fatto il party Oh Oh, oh, oh Oh, fammi muovere Ah, capisco quando hanno detto Classic MMO Ok, dodge Ma non ce l'ho la schivata Come dodge? Cura Oh, occhio Ok Credo che siamo alla fine del tutorial Non posso muovermi con il controller È collegato ma non funziona Fammi vedere questa skill Eseguo un attacco finale al bersaglio Facendo il danno del 156% Del tuo attacco Più 110 E ti garantisce 2 di ira Se il target ha meno di 25 HP 25% HP La skill fa più danno Però non mi garantisce la ira Ma, scusami Il 3 Transformi nella rabbia della spada Per attaccare due nemici Ah no, l'emico 2 volte Ogni attacco fa il 146% più 110, ok? Lo skill può caricarsi 2 volte E questo è l'attacco base Fai un veloce attacco Altre nemico 2 volte Facendo 41% più 32% Ti garantisce 1 di ira Poi ricaricarsi 2 volte Però se si ricarica 2 volte Io posso non aspettare il global cool down Perché allora forse ha più senso L'unica cosa che mi disturba È muovermi col mouse Raga, banalmente quello Non mi piace Spero che metterò una telecamera action Preferi Anche se poi non action Nel senso che l'itbox fa uno schifo Preferisco che posso muovermi Semplicemente muovendo il mouse così E non cliccando e poi muovendo Perché? Cioè, cosa vi cambia Che io clicco e che muovo il mouse? Non è più facile che io muovo il mouse E giro la visuale Piuttosto che devo cliccare E poi muovere il mouse Raga, in realtà sì Falla che Basta che giro No Rendiamo lo scomodo Come negli anni 2000 I modelli sono belli I modelli sono belli Ah, mi dice anche se single target Single target E questa è UE Ah, ma io posso correre Con shift Scusa, 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 scusa Un attimo Se io premo shift Posso correre Però premere shift per correre Non mi consuma stamina Non mi consuma nulla Ah, perché non metterò il default che corre? Perché non metterò il default che corre? Se non mi consuma stamina Se non mi consuma stamina Non è che dici Beh, scegli di non correre Perché ovviamente Ti consuma stamina Magari scegli di non correre In quanto la skill, sai Ti consuma la stamina Un cooldown No, è infinita Ragazzi Sono delle cose che non hanno senso per nulla Però se mi blocco Cammina piano Dove ripremere shift? È sicuramente una rottura di palle in più Come premere e poi girare la visuale Tutto a posto Develo per Non ha senso Che è uno che mi dà la direzione della quest sotto No, in realtà Anche se sono doppie Le skill C'è sempre un global cooldown Questo è l'inizio di Skyrim Guarda questo che mount c'ha Josue Oh Oh Quanti player Elimino i lupi Allora, se clicco sulla quest Mi dà la destinazione Andiamo a eliminare i lupi Come si chiama questa? Honka Allora, le quest Credo queste qua arancioni Siano quelle main E queste qua sono le quest forse Secondarie Assist C'è prima l'assist Mi dà i metri Del target Comodo Posso catelare già? Il diario di doji Ma non me ne frega Ma non leggerò mai Il diario è che posso muovere Mentre skillo Molto comodo Rompe La protezione del target Con un potente colpo Facendo il 300 del danno Più Ok E aumenta Il danno Che fai All'avversario Il 10% per 4 secondi Aspetta, qua cos'è? Ah, c'ho C'ho una schivata Il cooldown di quant'è? 22 secondi Aspetta, posso farlo però Due volte Il cooldown diventi 22 Io spero Con tutto il cuore Che io possa Assolutamente Abbassare il cooldown E il global cooldown Posso cambiare line Che sarebbero i canali Perché qua Insomma c'è un po' di gente Qua ce ne sarà meno Non è vero C'è anche azzi Quanto gente c'è Nell'11? 7? Nel mio canale ragazzi Ok, qua sembra un po' meno Allora, il feeling Però non è male L'hitbox Prova l'hitbox Vabbè, completamente aff***o L'hitbox non esistono manco Guarda Comunque tale Slendash il 21 Cioè oggi Il 4 uscirà Zzzz Che sembra molto più action Poi uscirà l'open beta Sempre a luglio Di Prone Liberty Abbiamo un po' di roba Di giocare Sono felice ragazzi Abbiamo un po' di roba Di giocare Magari c'è gente A cui preferisce questi Classic MMO Gente che preferisce Quelli più action Che però Sono coniglietti Ma scusami Scegli o l'anello O i stivali Stamina più 31 Che vuol dire Stamina più 31 Dov'è la stamina? Posso equipaggiarlo? Questa mi dà la forza Dov'è la stamina? Scusatemi Aspè Forse la stamina È un attributo? Stamina influisce HP e delta recovery Il valore focus Ignora la difesa dell'avversario Il valore Colpo Ah ok La schivata Perché chiaramente Sembra un Essendo un Top targeting Classico Il cooldown Oh Reduce il cooldown Del cast time E il global cooldown Del player Oh Dio C***o Sarà c'è l'azione Per poco Ma questa mi sta sempre Tocca Tocca Ah che palle Pensavo Potessi toccarle Non so Il culetto Il piedino Cos'è questa cicciona? È una zingara Nuova skill The worst Quindi quello che posso Doggiare Praticamente Sono solamente Gli attacchi Questi qua Ok Weird wing Ragazzi Il fatto è che Già c'è un global cooldown Lasciamo la stella L'hitbox Ok È un classic MMO Non è una giustificazione N All'N All'hitbox Fatta benissimo È super classic Che cosa mi dà sta collana? Ok un po' di tutto Abbiamo il gear score Comodo Guardagli i piedi Dai Cos'è questa? Carica Abbiamo anche l'appearance Oi Shop subito Eh la madò Ragazzi non mi dispiace Super shoppino Guardate quanto luccico Ma cos'è Baldur's Gate? Comunque raga Vi giuro che se ci fosse La telecamera action Forse non devi attivarla tu Anche perché Non ha senso Attivarla tu Già sarebbe molto meglio Non dico le hitbox Vabbè le hitbox Non possono cambiare La telecamera Sì Posso cambiarla in pochissimo Così non c'ha senso Mettimi piuttosto che Posso scegliere l'inizio del gioco Vuoi la action O la tab targeting Solamente un pazzo Sceglierebbe No poi riesco a cliccare E girare Piuttosto che solo girare C'ha senso Oddio Oh posso cavalcarlo In una cazzi Grazie divertentissimo Meno male che me l'hai fatto fa Qua posso superare le skill Ecco abbiamo anche la versione Tank Che poi vedremo meglio Primo dungeon Facciamolo Ma con il contrapersimativo Stacco di È entrato nelle parti Ah qua c'ho guide Mi mostra le skill del boss La meccanica Il boss Prenderà un giocatore A caso E eseguirà La spider web Ok la regnatela Immobilizzandolo L'avversario Con la regnatela Sotto il 40% HP il boss Entra nella fase 2 E si metterà sopra La caverna E evocherà Un demone Ragno Che attaccherà i giocatori Ma mi dice cosa è la fase 2 Ok mi dice cosa fa la regnatela Ah ok Intrappola e stordisce l'avversario Gli altri giocatori Devono rompere Il cocoon Il bossolo Per rimuovere l'effetto Solo te lo faranno I miei giocatori finti E loro stanno pushando Se fossi online Mi sarebbero già insurrando Tipo Idiota Vieni Leroy Awe Non ritorgo niente Niente Boss Stiamo muta perché ho tolto l'audio Lepiamolo noi Dove siamo Lascia stare amico Cosa c'è sapra Sborra Oh no Ecco il ragno Carino il design Mi piace Schivare Uh Ecco è vero L'abbiamo detto Leva sopra L'abbiamo detto Urla Così Ah devo schiacciare con i piedi E poi chiedere questo Eh ma sta sulla forza Occhio Dai si sta sulla forza Vieni giù Un fame fragica Baffiamola Allora sono lì C'è la debuff Oh Gli altri non fanno nessuna debuff Che inutili Wearing E' carina Come design Mi dice Quanto danno abbiamo fatto E chi Cioè ho fatto Allora aspetta Allora Io ho quasi creato il party No Più questa Che nel dps Cosa fa qui Ma com'è Aggiungere come amica Un npc Un npc Stendere quest Che aggiungo gli npc tra gli amici Che faccio Chat cbt Piccolo questo baule Ragazzi ci becchiamo Stasera in dia alle 10 in live Continuiamo a montare l'Island Che vedete Io vi ringrazio per la visual Edway si saluta Come vi saluto Alicia Non è difficile Salute E noi ci becchiamo Al prossimo video Ciao Ehi ciao Ti consiglio di guardare Di altri video Tallo E vi ringrazio per la visione